Teatro Sociale, Tribuna dello Stadio Parisi, parcheggi e interventi al campo giovani. Sono questi alcuni dei lavori finanziati con poco più di 3 milioni di euro alla città di Voghera nell'ambito del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, il cosiddetto PNRR, con lo sblocco dei fondi approvato nelle scorse ore dal Governo grazie a un emendamento dei parlamentari pavesi di Forza Italia e Lega. Gli interventi di regenerazione urbana presentati l'estate scorsa erano infatti stati ammessi ma non finanziati, al contrario di quanto accaduto per Vigevano che aveva ottenuto l'ok lo scorso 30 dicembre per un piano di lavori straordinari da 9 milioni relativi in particolare all'abbattimento e al rifacimento dello storico Pala Basletta che lascerà il posto ad una palestra moderna finalmente a norma per le esigenze sportive e scolastiche della città. Quella del 30 dicembre fu una doccia fredda per Voghera e soprattutto per la città di Pavia che aveva proposto progetti per 20 milioni di euro, tra questi la riqualificazione di lungo Ticino Sforza, Visconti e Viale Resistenza, il consolidamento della struttura di Casa degli Eustachi, sede dell'Uni 3, il restauro di Porta Calcinara, il miglioramento del decoro urbano in Viale Oberdan e nelle vie limitrofe, la riqualificazione dell'ex chiesa di San Marino e l'area limitrofa per realizzare spazi a destinazione sociale o ancora la ristrutturazione del mercato ipogeo e interventi di riqualificazione di Piazza della Vittoria. L'esclusione dal finanziamento aveva suscitato una levata di scudi in particolare da parte del Lanci, l'Associazione dei Comuni Italiani, e di partiti come Forza Italia che all'inizio dell'anno aveva proposto un ordine del giorno accolto per impegnare il governo a trovare i soldi per i comuni esclusi. Abbiamo lavorato anche all'interno del Lanci, l'Associazione dei Comuni Italiani, convincendo il Ministero della bontà di rifinanziare questi progetti, che erano rimasti fuori non per la qualità dei progetti, che era ritenuta adeguata, ma perché c'erano degli indicatori economici di contesto che erano stati penalizzanti e avevano favorito le città del sud e di altri territori. Quindi un'ottima notizia, i denari arrivano per un gioco di squadra che ha visto in prima linea i nostri amministratori locali del territorio e poi i parlamentari che tutti insieme qua, indipendentemente dal colore della casacca, hanno lavorato per il bene del territorio.